Tre decessi e 689 positivi in 24 ore. È l'ultimo bilancio redatto dal Servizio Sanità della Regione. Le vittime sono tre anziane, ovvero 80, con patologie pregresse. Sul fronte dei contagi, invece, è ancora la provincia di Ancona, secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico, a registrare il maggior numero di casi, 220. È seguita da quella di Macerata con 165. Viaggia rapidamente verso quota 300. L'incidenza di positività e il coronavirus su 100.000 abitanti. Nell'ultima giornata è passata da 284 circa a 296,38. L'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha fatto sapere che il Covid Hospital di Civitanova Marche, per il momento, non verrà aperto. Attualmente ci sono 216 persone ricoverate a causa del virus, di cui 39 in terapia intensiva. Saltamartini ha annunciato un ampliamento dei posti letto ospedalieri dedicati ai pazienti Covid. Come disposto dal Ministero della Salute ha riferito, stiamo allargando il numero dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, ma questo crea un sacrificio per le cure delle altre patologie. Il governatore, invece, è intervenuto sui due casi di variante Omicron individuati ieri a Loreto e nella Scolano. Sicuramente preoccupa, ha commentato il Presidente, che ha richiamato la prudenza di tutti. Mi aspettavo che arrivasse una variante con l'inverno a proseguito Acquaroli, ma dire che eravamo preparati e pronti, no. Ora si attendono le scelte del Governo e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle eventuali nuove misure. Altro tema che tiene banco in questi giorni è l'ipotesi del Green Pass per tutti gli studenti. Arriba a dire su no, oggi è la Lega Marche. Anziché inventarsi altre restrizioni, ha detto l'assessore all'istruzione Giorgia Latini, le istituzioni a due anni dallo scoppio della pandemia dovrebbero preoccuparsi di trovare soluzioni concrete. La Regione Marche ha ricordato in questo anno di governo, anziché chiedere alle famiglie di vaccinare i propri figli, correndo il rischio di discriminare i più piccoli lasciandoli a casa, ha proceduto all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata in 170 scuole, 1.500 aule, coinvolgendo 24.000 studenti per un investimento di 9 milioni di euro che prevede anche i sanificatori dell'aria. Altri fondi saranno stanziati nel bilancio di previsione. Laddove sono stati installati, ha poi spiegato Saltamartini, gli impianti hanno dimostrato di essere uno strumento efficace contro i contagi. Ritengo che le istituzioni, ha aggiunto Latini, prima di chiedere ulteriori sforzi ai cittadini e alle famiglie, debbano assicurare alle persone di aver fatto tutto il possibile, in particolare in relazione alla possibilità di vaccinare o tamponare i più piccoli ogni 48 ore. Forse ha concluso l'assessore, riferendosi alla lettera appello firmata da alcuni sindaci, interessa più la popolarità che può venire da questi argomenti che la necessità di evitare le lezioni in didattica a distanza e tutelare la sicurezza dei ragazzi.